Ciao a tutti, cerchio in lega, mettiamo il copo all'esterno, bloccaggio manuale, per il cerchio in lega andiamo a fare un doppio tasteggio all'interno del cerchio, uno, due, chiudiamo, la macchina parte in automatico, viene evidenziato al display il valore di squilibrio, per applicare il peso a ore 12 abbiamo tutti i led accesi, per applicare il peso usando la luce led del laser, che è più comodo, si deve accendere un solo led al centro, una volta che si è acceso il led, premiamo il pedale e andiamo a applicare il peso, una volta applicato il peso, chiudiamo, la macchina parte in automatico e a zero lo squilibrio. Se fosse un cerchio in lega avremmo messo il cono all'interno, rimontato la cuffia, bloccaggio manuale, in questo caso facciamo un solo tasteggio all'interno, passiamo e il lancio parte in automatico. in questo caso il peso verrà applicato a ore 12 rispetto ad esempio, chiudiamo, facile e veloce. e veloce.